Assume i contorni del giallo la morte di un sancataldese di 43 anni che nella serata di sabato era stato trovato privo di sensi in via Trappeti a San Cataldo. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo arrivo dell'ambulanza del 118 e la disperata corsa in ospedale. Il 43enne è deceduto durante il tragitto e i medici dell'ospedale Santeria di Caltanissetta all'arrivo dell'ambulanza hanno solo potuto prendere atto della morte del paziente. Sulla vicenda sta però indagando la squadra mobile. Gli investigatori hanno anche sentito i familiari viste le circostanze dell'accaduto e dagli accertamenti sempre emergere che la vittima facesse uso di stupefacenti. Probabile che come atto dovuto per approfondire le indagini e stabilire con precisione la causa del decesso venga disposta l'autopsia.